Weekend pieno di appuntamenti motoristici, oggi infatti c'è la doppietta tra moto mondiale e Formula 1, infatti doppio Racing Podcast, oggi alle 2 vedete il Racing Podcast del moto mondiale, alle 2 peraltro parte il Gran Premio di Singapore e di Formula 1, che dunque trova dopo 3 settimane di pausa e di conseguenza alle ore 19 secondo appuntamento con il Racing Podcast. Ma partiamo dalla gara di Thailandia, partiamo dal Chang International Circuit di Buriram, che ha regalato per quanto riguarda il moto mondiale delle gare molto interessanti, un mondiale totalmente riaperto, quello della MotoGP, un mondiale ancora punto a punto, quello della Moto2, è un mondiale praticamente chiuso o indirizzato, quantomeno quello della Moto3. Ma come al solito partiamo dalla classe regina, perché salta il banco letteralmente a Buriram, perché vince Miguel Oliveira la seconda gara della stagione dopo la vittoria in Indonesia, vittoria peraltro molto simile di condizioni, perché questa gara di Buriram si è svolta in condizioni di Bagnato, quantomeno nella prima parte di gara, e poi via via la pista è andata asciugandosi per regalare quella vittoria al portoghese che appunto non vinceva da Mandalika, quindi seconda gara della stagione. È una gara che appunto in parte soddisfa gli outsider e appunto da un altro punto di vista riapra totalmente il campionato del mondo MotoGP e lo vediamo tranquillamente dal podio della gara di Buriram, perché vince Miguel Oliveira quinta vittoria in carriera in MotoGP e seconda stagione per il quale suona la portuguesa, la nazionale portoghese, seconda Jack Miller un outsider di fatto che lascerà Ducati per andare in KTM ufficiale proprio al posto di Oliveira che andrà in aprile ai clienti, è terzo ed è il piazzamento più importante dei tre è Francesco Bagnaia che si difende nelle condizioni di Bagnato che l'hanno visto spesso non protagonista e arriva a portare a casa un podio di capitale importanza perché i più importanti contender al titolo del mondo oltre a lui ovvero Quartarò ed Espargarò hanno di fatto abdicato e sono finiti After The Music con Espargarò soltanto undicesimo, Quartarò addirittura fuori dai punti, quindi è ovvio che questo terzo posto di Bagnaia valga letteralmente come una vittoria. Si era paventata in realtà l'ipotesi di un gioco di squadra, uno switch di posizioni tra Miller seconda e Bagnaia terzo ma alla fine il distacco di Miller era più importante rispetto a Bagnaia che doveva comunque difendersi dal ritorno di Jarcault, di Marquez, di altri contendenti e di conseguenza era abbastanza rischioso per la gara di entrambi i piloti questo switch così almeno sono state riportate le dichiarazioni da parte del management della Ducati che comunque fin dall'inizio è stato chiaro la gara di Bagnaia sarebbe andata comunque in modo positivo a prescindere dal piazzamento perché come vediamo dalla classifica generale del mondiale Quartarò ha chiuso soltanto il diciassettesimo e dunque questo terzo posto di Bagnaia di fatto va a ridurre soltanto a due punti il distacco tra il francese di Nizza e il piemontese di Chivasso. Bagnaia va detto che ha fatto quel click che vediamo spesso fare a Razgatioglu in un superbike quando il turco e in questo caso l'italiano entrano appunto in questo mood dove di fatto sono imbattibili o quasi perché comunque parliamo sempre di piazzamenti a podio è veramente complicato farli fuori dal punto di vista sportivo e batterli. Bagnaia paga purtroppo quell'errore colossale a Monteggi nell'ultima gara dove si è steso regalando appunto a Quartarò dei punti gratis ma evidentemente quando il pilota piemontese è a posto i risultati sono sotto gli occhi di tutti e sono io il primo a ricredermi perché io prima della pausa estiva prima di Assen avevo detto che il distacco era abbastanza impossibile da recuperare perché erano 80 i più punti di distacco e invece Quartarò ha dimostrato anche una volta che è il pilota comunque migliore sulla moto peggiore dal punto di vista del pacchetto. Bagnaia invece è uno dei piloti più forti appunto in questo moto mondiale ma appunto con la moto migliore ovvero la Ducati, la Ducati in generale che fa incetta di qualificazioni e di prime file e ovviamente anche di podio perché anche a sto giro ce ne sono due sul podio perché Jack Miller fa un'ottima seconda posizione e di fatto si conferma dei piloti più in rush in questo finale di stagione dopo la grande vittoria di Bottega che fu la quarta della carriera. È stato un grandissimo duello va detto in realtà tra Oliveira e Miller due specialisti del bagnato alla fine ha avuto la meglio Miguel Oliveira che appunto torna a vincere dopo di fatto sei mesi e si issa all'ottava posizione della classifica del campionato. Ripeto Oliveira è un outsider ma su queste condizioni di bagnato misto asciutto in generale la KTM ha sempre fatto benissimo sia con Brad Binder sia con Miguel Oliveira e infatti si è visto come appunto oggi il portoghese ne avesse di più perché una volta passato Miller l'australiano non ha avuto assolutamente le capacità e il passo per poter competere con il portoghese che comunque fa una buonissima prestazione anche in vista dell'anno prossimo che andrà appunto in aprile a clienti sperando che il team RNF possa risollevarsi dalle ceneri di quest'anno con la Yamaha. Gli altri piazzamenti quarto appunto Johan Zarco che invece lui ha fatto una sorta di ordine di squadra non passando bagnaia e appunto permettendo al pilota piemontese di recuperare quanti punti possibili Zarco va detto che sulla parte di pista bagnata era il pilota più veloce in pista poi nella parte di gara asciutta era un attimo assestato sui valori del gruppo di mezzo infatti l'abbiamo visto sempre in questa posizione. Quinto è Marc Marquez che di fatto è rientrato a pieno regime anche in queste condizioni ha fatto un ritiro tanto discusso ad Aragon ha fatto un quarto e un quinto posto comunque abbiamo visto rientri peggiori diciamo così per un pilota che comunque di talento appunto non lo discutiamo ha accusato una grandissima qualità da un'intervista fisico e ha spesso anche comportamentale qui invece gara pulita quinta posizione per il 93. Sesto è Enea Bastenini che ricorda ancora una volta non è un contendente al titolo del mondo e infatti è in quarta posizione già staccato da Aleix Sparriolo che nonostante la dicesima posizione ha comunque 19 punti di vantaggio sul best di Rimini comunque buonissima prestazione per il pilota del team Gresini un buon viatico secondo me anche per l'anno prossimo settimo è Maverick Vignales che conferma il risultato di Moteghi e comunque si rende protagonista con l'Aprilia che poteva essere una moto secondo me da top 10 con entrambi i piloti e invece soltanto Vignales ha fatto una buonissima rimonta fino alla settima posizione ottavo è Alex Marquez che invece si è confermato un buon pilota da bagnato sappiamo che in queste posizioni il fratello di Mark ha fatto anche dei podi con appunto la Honda qui invece fa un'ottima ottava posizione anche qui in rimonta nono è Org Martin che invece rimonta al contrario perché partiva in prima fila ma sappiamo che Martin è uno specialista delle qualificazioni e poi in gara non ha avuto il passo degli altri piloti che fa nono con la seconda ricada del team Prama che decimo è Brad Binder che secondo me con la KTM poteva fare per me di più sul bagnato ha detto però che la gara sia di Binder sia di Espargaro è stata cominciata proprio da Alex Espargaro che finisce undicesimo ma questo posto va consensualizzato perché Espargaro fa un'entrata scellerata su Brad Binder infatti il piatto spagnolo viene penalizzato da un long lap e di conseguenza perde posizioni alla fine difende unicesima posizione che è vero fa guadagnare 5 punti rispetto a Quartarro ma comunque secondo me l'Aprilia aveva molto più potenziale che invece dimostra che la Yamaha è ancora una moto primordiale comunque non competitiva anche in queste condizioni è appunto Quartarro ma in generale Quartarro dimostra che la Yamaha non è di certo la moto migliore dell'otto Ducati e Aprilia sono sugli scudi è evidente Yamaha raccoglie veramente le briciole Quartarro già di base va a difficoltà sul bagnato poi con questo passo che anche nelle condizioni di misto asciutto non era al ritmo neanche dei quadri di metà classifica dice Lunga su come evidentemente il mondiale non dico possa avere un cambio di direzione ma è evidente come Quartarro debba difendersi e attenzione però che tra due settimane si corre a Phillip Island pista comunque molto tecnica ma molto importante per la Ducati e chissà che Quartarro non possa cedere la 10 del mondiale che di fatto detiene di fatto da inizio stagione o quasi un altro piazzamento da sottolineare è appunto quello di Franco Morbidelli ed è l'indicazione di quello che dicevo prima perché se Morbidelli è di fatto il migliore delle Yamaha per quanto talento possa avere Franco e per quanto la Yamaha non sia una moto effettivamente molto quadrata è evidente come appunto in questa gara la Yamaha probabilmente abbia rispecchiato i veri valori che dovrebbe evidentemente presentare in questo moto mondiale Morbidelli 13esimo è appunto la cartina di tornasola di come questa gara la Yamaha non sia stato un fattore in Thailandia ma anche in generale in tutto il resto del campionato perché tolto Quartarro che è un fenomeno dal mio punto di vista gli altri hanno fatto veramente fatica non parliamo di Dovizioso, Crutchlow, Darwin Binder però la Yamaha ha sempre relegato nelle basse zone della classifica punti anche fuori dai punti insomma è una situazione di parecchia difficoltà così come in difficoltà è stato un altro degli italiani che era protagonista all'inizio ovvero Marco Bezzicchi che finisce soltanto 16esimo ma partiva addirittura dalla pole position Bezzicchi si inventa il giro della vita in qualificazione ma poi appunto fa la gara del gangro che è addirittura fuori dai punti gli italiani abbiamo già detto lì Gian Antonio 18esimo c'era anche Danilo Petrucci che è tornato in MotoGP dopo appunto tantissimi anni con Ducati l'ultimo anno in KTM e Tec Troia è tornato in Suzuki a studiare Holmier che è ancora infortunato Suzuki che ha fatto veramente fatica 12esimo con Rins e Petrucci after the music per un mondiale MotoGP che tornerà in Australia tra due settimane che vede appunto di fatto la classifica totalmente riaperta la classifica invece è molto stretta in Moto2 anche se la Moto2 è stata la categoria che ha evidentemente più come dire beneficiato dell'acqua mi verrebbe da dire perché un diluvio torrenziale si abbatte sul circuito di Buriram nel mentre corre la classe intermedia alla fine della gara viene interrotta giro dalla fine per bandiera rossa punteggio dimezzato alla fine vince Tony Arbolino seconda vittoria in stagione per il piano di Garbagnati milanese se in MotoGP ha suonato una portuguesa qui suona il canto degli italiani è un podio che rilancia anche qui gli outsider tranne uno Aaron Canet che finisce terzo e di fatto guadagna punti per quello che si può guadagnare sul leader del campionato del mondo ma in generale c'è gloria appunto per il pilota del team Mark BDS che appunto vince la seconda gara della stagione e appunto accorcia in qualche modo anche sul altro nostro italiano più competitivo ovvero Celestino Vietti a 15 punti e mezzo appunto gara dimezzata ma comunque questa vittoria conta come la seconda in stagione per Arbolino che appunto non vinceva da Austin Texas stupisce molto la seconda posizione che è quella invece di Philip Salach che è uno specialista del bagnato per la Repubblicazione che corre con il team Gresini Salach va detto è stato anche molto sfortunato perché sbaglia l'ultima curva prima della bandiera rossa e se avesse tratto il traguardo per primo avremmo celebrato la prima vittoria in carriera di Philip Salach e invece è la seconda stagione di Arbolino comunque veramente Arbolino e in misura maggiore Salach sono di fatto degli outsider ma comunque è una buonissima prestazione per il pilota cieco primo podio in carriera in moto 2 e terzo è Aaron Caneta appunto che si difende molto bene sul bagnato e conquista il quarto podio o meglio il terzo podio delle ultime quattro gara che dà appunto il punteggio dimezzato alla fine nulla di fatto tra i due principali contender al titolo del mondo perché Ayogura finisce sesto e Augusto Fernandez finisce settimo adesso il distacco è di 1,5 punti qualcosa di clamoroso questo sì che sarà un titolo del mondo da assegnare e da seguire fino alla fine sappiamo però che a prescindere da chi vincerà sarà Augusto Fernandez l'anno prossimo a dare in moto GP e andrà ricordiamolo ancora una volta in gas gas a fianco di Polizio Espargarò se suona il canto di italiani per Tony Arbolino in moto 2 suona anche per Dennis Foggia in moto 3 grandissima vittoria per il pilota romano che ha preso e soltanto la compagnia vincendo con un secondo e mezzo di vantaggio sulla concorrenza una gara da Foggia che probabilmente se avesse avuto molto più pace consistency consistenza in tutto il stagione probabilmente staremmo parlando di un pilota con caratteristiche diverse e invece Foggia ahimè è fuori dalla lotta mondiale una lotta mondiale che va detto in realtà è già più che chiusa o se non è chiusa è indirizzata verso il team gas gas verso il pilota con la carena numero 28 ovvero Isanghevara che finisce quinto al traguardo perché dico questa cosa qui perché è inizio gas è stato un episodio molto importante ed è la caduta di Sergio Garzia che viene centrato senza ritegno da Adrian Fernandes è un fratello di quel Raul che corre in moto GP è entrata veramente garibaldina e tremenda del 31 che non solo centra Garzia e gli compromette ancora una volta la rincorsa mondiale ma appunto anche tutta la gara del gruppo che era alle sue spalle quindi i vari Taio Furusato i vari Kai Totoba Joel Kelso eccetera 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 fatto sta che Guevara fa una quinta posizione che come bagnaia vale oro ma qui vale per allungare in testa il mondiale perché Guevara adesso è a 265 punti e Garzia addirittura terzo a 209 addirittura Foggia lo supera in classifica generale con questa vittoria che è la quarta in stagione a 216 adesso si issa il pilota romano a tre gare dalla fine il distacco come vedete è consistente ma secondo me non ci sono chance secondo me che Foggia possa evidentemente vincere il titolo del mondo dovrebbe praticamente vincere tutte e tre le gare che rimangono e Guevara dovrebbe suicidarsi sportivamente parlando la vedo difficile però la Moto3 sappiamo che ovviamente è imprevedibile in seconda posizione per completare il podio abbiamo Ayumu Sasaki che comunque si conferma un altro dei piloti più interessanti in questo finale di stagione con il terzo podio consecutivo e terzo è Riccardo Rossi pilota genovese molto giovane del team 658 squadra corse che fa il secondo podio in carriera il primo avvenne Aleman l'anno scorso sempre in condizioni ibride un po' come è stata la gara della Thailandia per un'Italia che piazza anche un altro pilota a punti ed è Stefano Nepa menzione d'onore per lui perché con il quarto posto è il miglior oggetto della carriera in Moto3 il pilota che peraltro è stato confermato anche l'anno prossimo insieme a Ivano Ortolà nel team Anglos MTA Team questo dunque è il recap per quanto riguarda il moto mondiale abbiamo detto un mondiale è indirizzato questo qui di Isan Guevara due mondiali sono invece molto più aperti ovvero la Moto2 e la MotoGP tutte e tre le categorie torneranno tra due settimane in Australia al circuito di Phillip Island questa ricorda la classifica della MotoGP e qui concludiamo il primo di due podcast della giornata di conseguenza vi do appuntamento tra 5 ore alle ore 19 per parlare di Singapore con la Formula 1 che torna dopo tre settimane di stop il saluto da parte di Mediotolgard e ci vediamo dunque tra poco